L'assessora all'ambiente Monia Monni ha risposto a un'interrogazione presentata dal consigliere Francesco Gazzetti del PD, che chiedeva quali siano ad oggi le attività portate avanti dalla regione toscana per quanto riguarda controlli e monitoraggio ambientale delle aree sulle quali sono stati utilizzati materiali riciclati contenenti il CHEU, quali siano le azioni messe in atto e quelle programmate da parte della regione toscana per la bonifica e la messa in sicurezza dei siti coinvolti e a che punto sia l'attivazione della struttura del commissario unico per la bonifica delle discariche da parte del governo, volta a coordinare le azioni di bonifica dei territori. Monni ha consegnato un elenco dettagliato degli interventi messi in atto dalla regione fino a questo momento nella vicenda CHEU e ha puntualizzato che le bonifiche non sono interventi né facili né veloci da fare e che procedure istruttorie sono complicate. Ha inoltre spiegato che sia in attesa da un anno del decreto del governo nazionale per la nomina della struttura commissariale esterna e che certamente la regione toscana si costituirà parte civile nel processo. A questo proposito l'aula ha approvato con 26 voti favorevoli, nessuna stensione e nessun voto contrario, una mozione presentata da Irene Galletti del Movimento 5 Stelle che impegna la giunta regionale a riferire in consiglio regionale sull'effettiva costituzione di parte civile a suo tempo annunciata, illustrando come intenda rivalersi sui responsabili per i costi e le conseguenze dirette e indirette che gli sversamenti di CHEU hanno avuto e avranno sui cittadini toscani, sulla loro salute, nonché sul territorio, ambiente ed economia. Le parole dell'assessora Monni, che ringrazio perché ha offerto all'aula una ricognizione precisa, puntuale, a nostro modesto avviso vanno in una direzione esattamente opposta. Sono stati forniti dati, è stata fornita anche una raffigurazione delle operazioni in corso e sono anche stati evidenziati degli elementi molto importanti, la volontà della regione toscana di costituirsi parte civile, l'appello tra l'altro, ecco questo secondo me le forze di opposizione sicuramente non faranno mancare il loro appoggio per il completamento dell'iter per l'individuazione della struttura commissariale. Sul resto anche a seguito di una serie di approfondimenti che sono stati anche depositati dall'assessora Monni, così come annunciato in aula in Consiglio regionale, penso che tutti abbiano finalmente la possibilità anche di uscire dall'interpretazione di temi che a volte sentiamo o leggiamo e ci si possa, e questo è lo spirito con il quale anche ho deciso di presentare questa interrogazione, si possa entrare nel merito e si possa affrontare la questione CEU con anche la possibilità di condividere un approccio e schierandosi ovviamente al fianco di chi come dal nostro punto di vista fa la giunta regionale e sta agendo in maniera molto concreta e opportuna per un raggiungimento di un obiettivo che è quello della sicurezza e la salute ovviamente delle Toscane e dei Toscani. Credo che la suddivisione, la partigianeria, la strumentalizzazione su questi temi non sia mai utile. Da qui le parole dell'assessora Monni che ha toccato, lo voglio ripetere e la voglio ringraziare, davvero tanti punti hanno secondo me focalizzato una possibilità di azione comune se vogliamo. Quello di spingere tutti insieme e dato che la maggioranza a livello nazionale adesso vede una connotazione di un certo tipo che è esattamente speculare alle forze presenti nel laula del Consiglio regionale, adesso quelle forze hanno l'opportunità anche di offrire tutto il loro appoggio e tutta la loro spinta affinché questo atto, se lo ritengono importante, ma mi pare che sia stato evidenziato anche nel dibattito lo sia, si possa arrivare a un risultato concreto nell'interesse generale. Credo, lo spirito della mia interrogazione era anche questo, che si potesse davvero segnare un ulteriore passaggio rispetto a questa vicenda, condividendo gli obiettivi e basandosi non sull'interpretazione e benché mai sulla strumentalizzazione, ma basandosi su atti e soprattutto su dati, che sono quelli che sono contenuti, sono stati enunciati dall'assessore Amonni e riflettono ovviamente l'azione della Giunta regionale e anche tutti gli auspici e gli indirizzi che nel corso del tempo il Consiglio regionale ha approvato al suo interno. La preoccupazione riguardo il fatto che questi sversamenti di materiali contenenti Keu abbiano raggiunto molte più parti della Toscana è un dubbio, un timore fondato su dei numeri che sono emersi grazie anche a un accesso agli atti che abbiamo fatto e da dei rilevamenti che sono stati fatti anche da Arpat e riguardano le centinaia di migliaia di tonnellate di conferimenti di questi fanghi che sono stati fatti all'epoca, nel corso degli anni. Si parla dal 2014 in poi che all'improvviso si sono dimezzati, sono andati quasi ad esaurirsi nel 2016 con un procedimento, con dei passaggi che sono ancora oggi al vaglio delle autorità. Significa che ci potrebbero essere tonnellate e tonnellate ovunque in Toscana. Serve un'indagine documentale prima e in loco successiva fatta da Arpat perché secondo noi il rischio che la Toscana sia un focolaio denso di questi luoghi di inquinamento è alto ed è importante che la Regione Toscana abbia accolto l'appello che è stato fatto da CGL e Libera anche nel corso del convegno regionale a cui ho partecipato insieme a molti assessori dove tutti hanno sottolineato il profondo legame tra lavoro, ambiente e salute. E' stato ribadito questo e di nuovo CGL e Libera hanno fatto un invito alla Regione Toscana a costituirsi parte civile, non soltanto per un dovere morale ma anche per un dovere nei confronti dei cittadini che altrimenti con le loro tasche, la loro fiscalità dovranno pagare le bonifiche. L'assessore Amoni ha detto che già 10 milioni sono stati stanziati per le prime bonifiche ma sappiamo bene che sono spiccioli o poco più per quelle che sono le reali necessità. Pensiamo solo alla strada statale 429 che dovrebbe essere per fare un lavoro di un certo tipo smantellata interamente ad oggi nelle parti che sono contaminate è soltanto coperta. Lo dobbiamo a cittadini, lo dobbiamo alla giustizia, alla legalità di cui la Regione Toscana si è sempre fatta promotrice. Abbiamo ringraziato comunque l'assessore Amoni del quadro che ha fornito oggi in risposta a un'interrogazione e poi aggangiandoci alla discussione di una mozione dei 5 Stelle che chiede ancora una volta che il Consiglio regionale sia informato per tempo e con continuità sulla vicenda Cheu. Non siamo soddisfatti dei tempi perché in realtà la Toscana e i toscani attendono già da molti mesi l'avvio delle bonifiche promesse che invece anche per lungaggini burocratiche legate ai procedimenti e all'interpretazione delle norme ancora non sono partite. Inoltre ci siamo presi in carico perché eravamo stati i primi insieme al nostro capogruppo Torselli a porre la questione del commissario straordinario per le bonifiche nazionale perché il decreto 152 lo consentirebbe. Ci siamo resi disponibili a sollecitare il governo a procedere alla nomina perché quando lo proponemmo noi addirittura a giugno del 2021 la giunta regionale ci disse di no. Oggi invece hanno cambiato idea, ancora una volta seguono Fratelli d'Italia con un po' di ritardo e vedremo e speriamo che ci sia questa nomina perché è giusto e opportuno che ci sia differenziazione fra coloro che hanno ruoli di governo e di gestione dell'ordinario all'interno della regione toscana e coloro che invece si devono occupare di una questione molto delicata, complessa e immediata come le bonifiche. Noi faremo tutto quello che possiamo fare, siamo consapevoli di essere al governo, bene che se ne renda conto anche Gianni e la sua giunta e l'importante è che il coinvolgimento ci sia sempre a 360 gradi. Per questo abbiamo chiesto all'assessore e anche su questo finalmente abbiamo ricevuto disponibilità a tornare in Commissione Ambiente a riferire anche di come sta evolvendo l'accordo di programma che è alla base di quel rapporto che va chiarito e andava ulteriormente chiarito fra il comparto conciario che è un comparto da valorizzare e da spingere sempre più nell'interesse dell'economia toscana e i vertici della regione toscana stessa e gli organi di controllo. Quell'accordo di programma va rivisto ed è giusto che il Consiglio regionale che ci ha investito e ci investe tantissime risorse da molti anni sia perfettamente a conoscenza. Da parte di Fratelli Italia massima collaborazione nell'interesse dell'ambiente e dell'economia toscana. È stato fatto un dibattito sul che è totalmente insoddisfacente perché siamo allo stesso punto di più di un anno fa. Ancora si dice partiranno i piani di caratterizzazione che sono quei piani che permettono e portano poi alle bonifiche. Partiremo in alcune aree con le bonifiche. Il piano è aggiornato, aiuteremo i comuni, però la situazione fondamentalmente non è variata rispetto a un anno fa. Siamo ancora allo stesso punto. L'unica innovazione è che la regione ha deciso di mettere a disposizione 10 milioni per le bonifiche. Questi 10 milioni ancora non sappiamo come verranno utilizzati. I tre sono i siti che coinvolgono la regione, gli altri siti sono in capo agli enti locali che non hanno la strumentazione, non hanno le capacità tecniche all'interno dei comuni. Pensiamo che sono stati coinvolti comuni piccolissimi, con personale a disposizione veramente limitato, che non hanno le competenze per preparare un piano di caratterizzazione e poi riversare i soldi anche che servono per il piano di caratterizzazione e le bonifiche verso gli attori coinvolti. Il procedimento della magistratura è ancora in corso, le indagini preliminari sono chiuse, però ancora non abbiamo notizie in merito. Quindi fondamentalmente tante parole, però pochi fatti. Poche novità su quello che è l'accordo di programma, poche novità sul piano di bonifiche e di caratterizzazione, poche novità sul futuro anche di quel distretto che tanto è importante per la Toscana che ora oggi verte in una situazione di criticità perché comunque sempre al centro di questa indagine non si riesce ancora a chiudere tutto l'iter almeno amministrativo e burocratico sotto l'indagine Cheu. Sicuramente il fatto che oggi ci venga confermato che la Regione si costituisce parte civile e continua il percorso appunto per andare a capire chi sono i soggetti coinvolti anche dal punto di vista amministrativo e far pagare chi veramente è inquinato in quei territori e non far pagare tutti i cittadini toscani è un passo in avanti, ma non basta. Noi chiediamo che quell'accordo di programma arrivi in fondo, che si capisca anche per il bene e soprattutto anche per il bene del comparto e di tutta quell'area come abbiamo intenzione di procedere da oggi in poi perché ancora si va avanti a deroghe, a proroghe, ancora non è chiaro l'iter amministrativo procedurale, ancora non sappiamo quale sarà il futuro del consorzio Aquarno, ancora non sappiamo soprattutto se ci sono altri siti in Toscana che vertono in quelle condizioni, perché abbiamo fatto un calcolo e si parla più di 200 mila tonnellate soltanto negli ultimi sei anni, ne sono state trovate poco più di 32 mila. Quindi tutte le altre tonnellate di Keu utilizzate dalla ditta Le Rose, oggi dove sono? La ditta Le Rose dove le ha utilizzate? In Toscana? Ecco vogliamo chiarezza, vogliamo capire se sì dove, perché tutti i cittadini toscani dal punto di vista ambientale, dal punto di vista della salute e dal punto di vista della sanità, meritano dignità. Sono state presentate in aula le relazioni di minoranza e di maggioranza con cui si sono chiusi i lavori della Commissione di inchiesta sui vaccini e sulla verifica del corretto svolgimento delle misure messi in atto dal sistema sanitario regionale per contrastare la pandemia da Covid-19. Alla fine della discussione è stato respinto all'ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia, che accoglieva gli emendamenti di Italia Viva e invitava il Presidente della Giunta regionale a manifestare il proprio supporto alla volontà del Governo nazionale a voler far chiarezza sulla gestione pandemica degli ultimi due anni e mezzo. Alla fine di questo lungo lavoro abbiamo evidenziato il fatto che la Regione Toscana si è trovata a gestire, come le altre Regioni, è una situazione straordinaria e inedita e di caratura globale, per cui con un panorama assolutamente nuovo e strumenti inizialmente molto carenti, pensiamo, mancavano le mascherine, mancavano i respiratori. Devo dire che ricostruendo anche il percorso normativo che la Regione ha messo in campo si vede come si sia da subito mobilitata la Giunta, dal Presidente Rossi nel mettere in campo con le prime ordinanze intanto un modello di governance molto stretto, molto snello, che poteva basarsi anche sulla riorganizzazione del sistema sanitario in soltanto tre aziende e quindi con una rapidità di diffusione delle decisioni davvero unica e poi le decisioni di allestire oltre 280 postazioni di terapia intensiva nuove, l'istituzione delle USCA, che a regime sono arrivate ad essere 160 unità, un lascito che ancora oggi abbiamo e che dovrà essere ulteriormente valorizzato proprio nella fase di costruzione della medicina territoriale. Pensiamo agli alberghi sanitari, ai percorsi protetti negli ospedali per i Covid e non Covid, una riorganizzazione profonda alla quale comunque la Regione ha saputo rispondere in maniera efficace e resiliente, per usare un termine assolutamente in voga nei nostri giorni, chiaramente potendo contare su un sistema articolato che ha saputo dare risposta analoga e basandosi sia sugli operatori sanitari, sul mondo del volontariato, ma anche sui sindaci, sul sistema delle farmacie, sui medici di medicina generale, pediatri libera scelta. E oggi, ancora oggi, vediamo che per i dati della vaccinazione la Regione Toscana risulta essere nelle prime posizioni a livello nazionale, con una copertura di vaccinazione molto importante e anche con un'efficacia che attraverso il lavoro degli AB e dei medici di medicina generale ha saputo raggiungere capillarmente ogni porzione del nostro territorio. Quindi questa è ovviamente un'eredità di conoscenze dalle quali ripartire per immaginare la sanità del futuro, nella quale rafforzare la medicina del territorio. Oggi il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, peraltro, ci consente di lavorare alle case e agli ospedali di comunità, alla telemedicina, ma tutto questo deve poggiare su una sostenibilità economica che non ravvisiamo in questa manovra finanziaria del nuovo Governo, che fa scendere l'investimento in spesa sanitaria che il Governo Draghi ha lasciato a oltre il 7% al 6,6 nel 2023, al 6 nel 2024, immaginando appunto un sistema che in questa proporzione risulta difficilmente sostenibile. Su questo io mi auguro che si possa invertire la rotta, perché la popolazione italiana, anche Toscana, fortunatamente invecchia, si vive più a lungo, le cronicità sono più diffuse, quindi c'è bisogno invece di investire ancora di più, eliminando anche quei vincoli assunzionali e sulla programmazione delle nuove professioni mediche, come il numero chiuso alle facoltà di medicina, che ancora oggi impediscono di dotarsi in maniera adeguata delle professionalità necessarie. Oggi è stata presentata la relazione da parte dell'opposizione e poi anche quella della maggioranza, purtroppo due relazioni divise rispetto alla commissione sulla pandemia e quindi sulla gestione dei vaccini che è stata chiesta da parte delle opposizioni, di cui ho anche fatto parte. Abbiamo fatto un lavoro molto lungo e completo su questo e abbiamo dovuto anche far rilevare quelle che sono state le criticità della gestione anche da parte della regione toscana, che da parte nostra non ha avuto coraggio, soprattutto nella prima fase, quando a livello governativo gestiva Arcuri. Secondo noi l'arrivo di Figliolo ha poi cambiato le linee, si è andati a vaccinare gli ultraottantenni, ma nella fase precedente ci siamo dimenticati per esempio che non avevano priorità i disabili, i loro caregiver e su questo la regione toscana non ha fatto niente. E poi anche sulle vaccinazioni degli anziani, degli ultraottantenni, insomma è stata una discussione ampia che ha portato il frutto di quel lavoro che abbiamo fatto in questa commissione speciale. Io purtroppo ho dovuto anche abbandonare l'aula durante il mio discorso davanti all'ilarità da parte dei colleghi della maggioranza che non è tollerabile davanti alle morti e al rispetto che si deve di fronte a questa situazione. La commissione ha fatto un lavoro poderoso, ha ascoltato tutti, tutti gli operatori del settore e ha impiegato molto tempo per stilare una relazione che vorrebbe essere non soltanto una memoria storica per futuri ricercatori, ma uno strumento attuale per capire che cosa è stato fatto sia nel bene che nel male. E quello che è venuto fuori sicuramente sono stati fatti degli errori dovuti anche alla situazione eccezionale della pandemia, ma anche a delle mancanze, soprattutto di programmazione e di pianificazione, che erano evidenti. Erano evidenti per noi dell'opposizione, non sono mai state condivise dalla maggioranza, non ricordo il numero delle interrogazioni che ho fatto anche direttamente in aula all'assessore e tramite richiesta di accesso agli atti per avere i documenti relativi al piano pandemico regionale. Addirittura feci, tramite accordo con altre forze politiche, convocare un consiglio regionale straordinario sulla campagna di vaccinazione e sul piano pandemico e ci fu dato completamente un documento che non c'entrava nulla. Quindi oggi possiamo affermare che se non ci fosse stata questa commissione di inchiesta i cittadini non avrebbero mai saputo che in Regione Toscana c'era un piano pandemico aggiornato al 2008 e che non solo non era stato aggiornato, ma non era mai stato attuato neanche in minima parte. Questo che cosa ha voluto dire? Ha voluto dire che ci siamo trovati di fronte a una emergenza completamente impreparati, ma per quanto fosse condivisibile il fatto che era impossibile pensare a stoccare grandi quantitativi di dispositivi di protezione individuale nei magazzini, vista l'eccezionalità della situazione, l'attuazione di un piano pandemico ci avrebbe trovato pronti non solo nella catena di comando, ma anche nella gestione della comunicazione verso l'esterno, verso quei cittadini che si sono trovati indifesi, ignari e soprattutto soli di fronte a un problema che era fondamentalmente nuovo. Quello che è fondamentale in una fase emergenziale è la gestione del panico della popolazione. Tutto questo non è stato fatto. Lo abbiamo scoperto dopo molti mesi grazie a questa commissione di inchiesta che comunque non ha voluto essere un atto d'accusa contro nessuno, ma portare, se possibile, delle puntualizzazioni in grado di poter far tesoro di quello che è stata l'esperienza. E il direttore alla sanità, dottor Carlo Rinaldo Tomassini, lo ha detto chiaramente anche nella sua audizione. Ci sono state delle soluzioni, come per esempio gli alberghi popolari, le unità speciali di continuità assistenziali, le famose USCA, che sono servite tantissimo ad alleviare la pressione sugli ospedali. Queste sono cose che anche a detta di chi ha gestito l'emergenza, come il dottor Tomassini, dovrebbero essere mantenute. E invece quello che si capisce è che la futura organizzazione della sanità regionale toscana non va in questo senso. Quindi il nostro dubbio è che passata la pandemia i problemi strutturali rimangano sul campo e non si faccia tesoro di quanto è successo. La Toscana è stata la prima, anche su nostra richiesta, a fare una commissione di inchiesta a livello toscano per verificare cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato sotto la pandemia, in maniera molto acritica, ma ovviamente in maniera oggettiva per vedere e di comprendere come è stata la risposta della regione toscana a quell'esperienza. Da Italia Viva parte una richiesta forte, è mio l'emendamento di richiesta all'ordine del giorno per chiedere al Governo di istituire anche a livello nazionale una commissione di inchiesta. Lo stiamo chiedendo da anni, anche a livello nazionale, con il nostro leader Matteo Renzi e oggi è stata l'occasione per depositare un atto ufficiale con la quale, partendo dalla Toscana, si possa chiedere anche a livello nazionale una commissione di inchiesta, perché nel mentre le persone morivano, nel mentre le persone venivano soccorse, venivano in alcuni casi curate, nel mentre il volontariato e i medici davano tutto a se stesso per aiutare gli altri, c'era chi faceva affari, magari sulla disgrazia degli altri. E questo va messo alla luce, va fatto una commissione di inchiesta con poteri parlamentari, quindi dalla Toscana, dall'esperienza positiva di un'indagine, ovviamente conoscitiva, così come avviene a livello toscano, parte una richiesta forte a livello nazionale, perché questo possa essere raccolto anche a livello nazionale e a quel punto fare una commissione permanente di inchiesta per verificare effettivamente quello che ha funzionato e soprattutto quello che non ha funzionato quando al Governo c'era Giuseppe Conte. Grazie a tutti.